Una sola seduta di allenamento, questo il primo regalo di Antonio Conte e i suoi ragazzi dall'inizio del ritiro di Ridan. Tranotate in piscina e palestra, gilet compagni socializzano e si rilassano dopo tre giorni intensi di preparazione atletica e schemi. In questo clima di relax abbiamo avvicinato il difensore Parisi, presentato la stampa qualche giorno fa. Parisi, finalmente un po' di relax. Hai avuto comunque modo di conoscere il nuovo allenatore, il nuovo preparatore atletico, i nuovi compagni, come sta andando? Bene, la prima mezzogiornata di riposo, alla fine ci voleva, abbiamo avuto tre giorni comunque una ripresa a discreti ritmi. Venivamo dalla vacanza, perciò l'inizio è sempre difficoltoso, ma c'è da lavorare parecchio, siamo ancora all'inizio e la strada è lunga. A proposito di compagni di squadra, è stato presentato Masiello, tu hai giocato insieme, com'è? Un giocatore di fascia dove ha molta corsa, ha una facilità per arrivare al cross, ha le caratteristiche perfette per il gioco che l'allenatore vuole. Durante la conferenza stampa di Masiello ha parlato il presidente Mataresi, ha detto questa squadra è da Serie A. Sicuramente a parole è molto più facile, però poi noi sul campo dobbiamo alla fine mettere in pratica quello che il presidente dice. E dopo lo stop di oggi pomeriggio, domani nuovamente a lavoro. È prevista infatti una doppia seduta di allenamento.